Sale a sé il numero degli indagati a seguito del crollo del solaio di un capannone a San Michele Salentino in cui aveva perso la vita l'ostunese Franco Mastrovito di 49 anni. Una tragica morte sul lavoro che come atto dovuto ha portato all'apertura di un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo e nelle scorse ore il decreto di sequestro che, atto dovuto anche questo, include tutte le figure che hanno una relazione con l'immobile e con i lavori. Nel registro degli indagati Stefano Barletta, Giuseppe Mazzotta, Domenico Padula, Andrea Turrisi ma anche Francesco La Veneziana e il francavillese Massimo Ferrarese, ex presidente della provincia di Brindisi e amministratore dell'azienda di Oria che nei mesi scorsi aveva realizzato il prefabbricato, sono ancora ricoverati in ospedale i quattro operai rimasti feriti. Tre di loro, tra cui lo stesso Padula, ex consigliere comunale della città degli imperiali, non sono in pericolo di vita. Resta riservata la prognosi per un altro ferito nel tragico crollo.